Allora Massimiliano, primo giorno, tu sei già abituato, hai già fatto due esperienze di assessore? Sì, non è la prima volta però devo ringraziare il sindaco per la fiducia e per avermi dato questo incarico e lo spirito è quello di cercare di mettersi a disposizione, spero di riuscire a farlo in una maniera migliore Vuoi ricordarci un attimo le tue deleghe? Urbanistica, edilizia privata, ambiente e decoro urbano Poi adesso la prima giunta sarà proprio per definire cosa si dovrà fare settore per settore quindi spero, ma sono convinto che il sindaco metterà tutti al lavoro in maniera più operativa già dalla settimana prossima Ti lascio che la giunta è cominciata, grazie, un buon lavoro